Allora, rientrami in onda qui su RBA, questo è sempre Elio e ve l'ho detto, saremo rientrati in onda facendo un piccolo passo indietro per provare a guardare già con un qualche giorno di distanza quello che si è mosso e non si è mosso all'interno della COP27 egiziana che si è conclusa qualche giorno fa, quando stava per aprirsi avevamo raggiunto Jacopo Bencini di Italian Climate Network e torniamo da lui anche per uno sguardo conclusivo, bentornato Jacopo, grazie come sempre Buongiorno, grazie per l'invito come sempre Io comincio subito con le domande un po' complicate perché insomma la questione è sempre complicata di semplici, non so se ce ne siano come si è conclusa questa COP, ovvero proprio a livello di documenti, di decisioni, di quello che è stato scritto nero su bianco, qual è il risultato effettivo della COP27? Allora, la COP come ormai è tradizione da molti anni si è conclusa con un documento ombrello, diciamo che è il documento politico e vari documenti più negoziali, più tecnici dai vari tavoli tematici nel documento ombrello che è quello più importante, nel quale si delineano non solo le decisioni prese ma anche le prospettive ci sono molte novità, questa avrebbe dovuto essere una COP della mitigazione secondo molti, nel senso che a Glasgow ci si era lasciati con i compiti a casa da fare per tutti i paesi del mondo di dover presentare nuovi impegni nazionali, quindi nuovi impegni nazionali sulla riduzione delle emissioni complice il conflitto tra Russia e Ucraina, la conseguente crisi dei prezzi, crisi energetica, ristrutturazione degli energy mix alla fine solo 33 paesi su 196 hanno presentato dei nuovi impegni, quindi dal punto di vista della riduzione delle emissioni molto negativo però si è creato uno spiraglio, in questa situazione un po' caotica diciamo a livello geopolitico per i paesi in via di sviluppo capitanati da Cina e India per portare avanti una battaglia che in realtà in maniera un po' sotterranea è un po' carsica, va avanti da almeno 30 anni, dal Rio 92, ossia l'istituzione di meccanismi finanziari per compensazioni in estrema sintesi facciamo fede a quanto detto al Rio 92, ossia che nel mondo del clima ci sono responsabili e diciamo così vittime se vogliamo, i paesi più fragili, i paesi che non hanno mai emesso sostanzialmente quantità rilevanti di CO2 in atmosfera e che oggi subiscono gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, ecco portiamo giustizia in questo senso tramite compensazioni facciamo pagare ai paesi ricchi parte delle riparazioni per perdite e danni che questi paesi subiscono un tema che fino a giugno di quest'anno sembrava completamente fuori dall'agenda politica c'è stato invece una forte presa di posizione da parte della presidenza egiziana che ha messo il tema all'ordine del giorno e vi dico con grande sorpresa ne siamo usciti nel documento finale di COP con l'istituzione di un fondo internazionale dove poi i paesi dovranno cominciare a mettere risorse a compensazione di perdite e danni addirittura contro l'approccio lanciato inizialmente dagli Stati Uniti e dai paesi del G7 che volevano un fondo di tipo assicurativo sulla base di polizia del quale i paesi in via di sviluppo non volevano sentire parlare quindi ecco questa forse è la più grande novità di questa COP sulla finanza climatica terzo tema importantissimo neanche quest'anno si sono raggiunti i 100 miliardi all'anno da versare anche in quel caso insomma trasferire i paesi in via di sviluppo ormai dal 2009 non si raggiunge questo obiettivo però si è molto discusso del prossimo obiettivo dal 2025 in poi e vi dico anche nei documenti finali forse forse da analisti ecco leggiamo sparando un po' di numeri forse non troppo realistici sottinteso che tanto è una decisione che verrà presa tra qualche anno che mi sembra anche se è un po' la prassi purtroppo il delegare alle prossime COP questo tipo di decisioni non so se quello che tu cita appunto questo finanziamento da 100 miliardi di dollari che era stato promesso nel 2009 la consapevolezza rispetto a come è andato a finire non so se getti un'ombra rispetto all'istituzione del fondo per perdite e danni perché è molto importante che sia stato istituito poi però chiaramente come dici tu bisogna versare questo denaro e finora in iniziative simili non è andato così vabbè come dire i paesi in via di sviluppo sono uso questa formula un po' vetero ovviamente per capirci ecco tutti i paesi che non sono paesi oxe hanno percorso questo spiraglio di opportunità intanto per formalizzare la possibilità di avere delle risorse su questo filone perché fino ad oggi le risorse o stavano sulla mitigazione o stavano sull'adattamento tutto quello che non era la mitigazione né l'adattamento era cooperazione allo sviluppo questi paesi però dicevano io che devo effettivamente spendere una parte del mio budget annuale in riparazioni come dire questa non può essere considerata solo cooperazione allo sviluppo qui c'è una responsabilità da parte dei grandi emettitori che non possono poi venire solo a fare beneficenza per capirci è vero che il fondo è stato creato e potrebbe anche rimanere vuoto perché poi sta ai paesi metterci risorse c'è però anche una grande pressione internazionale sui grandi emettitori per cominciare a metterle queste risorse e come dire può essere che qualcuno metterà poco ma sicuramente nessuno metterà zero nessuno politicamente se lo può permettere parliamo di politica parliamo anche dei singoli paesi vorrei chiederti un commento anche sulla scarsissima partecipazione dell'Italia a questa COP qualcosa che è stato raccontato nelle scorse settimane sia in termini temporali cioè la delegazione italiana si è fermata per pochi giorni e poi anche dal punto di vista della partecipazione ai vari tavoli l'Italia non ha preso in mano nulla sostanzialmente questo insomma penso sia un segnale di scarsissimo interesse senz'altro nell'amministrazione attuale Allora qui però come Italian Climate Network smentiamo un po' questa lettura molto presente in Italia negli ultimi giorni molto giornalistica tra i 27 paesi dell'Unione Europea io credo che nessun paese abbia avuto il ministro per più di due o tre giorni esattamente come l'Italia l'Italia è stata presente per tutte e due le settimane anzi anche da prima ma come tutte le delegazioni europee ricordiamoci che noi negoziamo come Europa non come singoli paesi e l'Italia è stata presente con l'inviato speciale per il clima Alessandro Modiano che è stato presente in COP 15 giorni su 15 anche con una grande disponibilità e con un ruolo di mediatore e interprete delle diverse volontà tra i 27 molto forte al nostro paese a livello diplomatico multilaterale è riconosciuto un ruolo di mediazione molto importante anche in questa COP è accaduto così ricordiamoci che abbiamo uno staff di negoziatori italiani molto esperti che è lo stesso da 10-15 anni capitanati dalla direttrice Federica Africano del ministero che appunto da più di 15 anni gestisce in prima persona i negoziati per parte italiana e vi posso assicurare che questo gruppo di persone non ha dormito per due settimane stando sui falli e sui dossier e non lo diciamo perché come dire ci fa piacere darci una medaglia e dare una medaglia a quella parte di ministero dell'ambiente ma perché oggettivamente l'Italia c'era quindi come Italia in climate net perché veramente abbiamo voglia di smentire questa lettura giornalistica per la quale se il ministro Pichetto Fratin si ferma tre giorni su due settimane l'Italia non c'è non è così? Chiaro no mi fa molto piacere che mi specifichi questo elemento perché effettivamente la narrazione era questa quindi si può dire forse che a livello di politica in senso molto stretto cioè di discorso politico di punti politici portati avanti il tema forse è molto secondario ma invece a livello di funzionari di staff di lavoro negli uffici e nelle sale conferenze invece si fa qualcosa di più aggiungo due punti velocemente se posso l'inviato speciale per il clima non è un funzionario è un diretto rappresentante del governo tanto che ha carica di ambasciatori quindi ecco in assenza del ministro credo che fossimo comunque molto ben rappresentati il secondo punto è quello della continuità con sorpresa di molti devo dire forse un po' anche nostra Meloni quando è venuta Sharmel Sheik nel suo discorso è sostanzialmente andata in totale continuità con il governo Draghi sul tema del clima addirittura rivendicando le due iniziative il Fondo Italiano per il Clima e l'organizzazione del percorso Youth for Climate adesso che dopo l'avvio dello scorso anno passa sotto egida UNDP quindi ecco leggere letture per le quali l'Italia è stata assente anche sui temi piuttosto proponiamo un altro tipo di lettura ossia c'è una discrepanza totale tra ciò che il governo dice a Roma e ciò che il governo dice ai tavoli internazionali chiaro e questo comunque è un elemento su cui ragionare, su cui discutere oggi chiaramente non abbiamo il tempo infatti ho fatto un po' aprire questa parentesi tornando invece alla COP27 nel suo complesso si chiude con l'altra domanda molto complicata ovvero adesso cosa abbiamo davanti qual è la prospettiva verso la prossima COP perché insomma si rilanciano l'una con l'altra e dal punto di vista delle mancanze come ad esempio citavi le decisioni rispetto alle emissioni insomma che cosa abbiamo di fronte se abbiamo qualcosa allora innanzitutto dobbiamo essere poco eurocentrici e toglierci un po' di pregiudizio quando si vanno a fare prospettive l'Egitto di quest'anno insegna pensavamo che da una COP in un paese con il livello che è quello che è di tutela dei diritti umani un paese che vive di esportazioni di fossili sarebbe uscito poco quando invece la lettura da dare era quale ruolo vuole avere l'Egitto anche all'interno dell'Unione Africana e dei suoi fori multilaterali e come vuole uscirne e da qui viene l'output che abbiamo visto che è stato il fondo su perdite e danni che risponde a una necessità principalmente africana COP28 sarà negli Emirati Arabi Uniti anche lì si potrebbe dare per scontato che non sarà una COP di mitigazione perché sono appunto paesi che vivono di petrodollari proviamo però a immaginare come gli Emirati Arabi vorranno uscire mediaticamente e politicamente da questa prossima COP quali sono gli interessi in balla anche a livello regionale e dove vanno gli investimenti a livello globale gli Emiratini sanno benissimo che la finanza globale va verso le energie rinnovabili ormai da anni e allora provocatoriamente come Italian Climate Network ci siamo detti perché non aspettarci una COP sulla mitigazione e sulla ricerca e sviluppo nelle rinnovabili dalla COP di Dubai dell'anno prossimo potrebbe essere una prospettiva e ricordiamoci sempre la regola numero uno è che la presidenza della COP vuole uscirne facendo bella figura e fare bella figura non vuol dire investire sui fossili sicuramente chiaro è sempre meno anno dopo anno è sempre meno questa la direzione come ogni volta che ti intervistiamo ci sarebbe spazio insomma in termini di argomenti per parlare per ore e ore il tempo radiofonico per ore tiranno perciò ti ringrazio moltissimo ancora per questo contributo grazie Jacopo Bencini di Italian Climate Network e senz'altro a presto ci risentiremo grazie a voi per seguire questo tema con così tanta passione e approfondimento a presto noi intanto ci prendiamo allora una pausa e poi ritorniamo qui su Elio grazie a voi grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti.